I gatti più belli del mondo? Animal News li ha filmati all'esposizione felina internazionale di Carrara, un evento organizzato dall'ANFI, associazione nazionale felina italiana, in collaborazione con Royal Canin. A presentare la manifestazione, il presidente della sezione toscana Elena Bongi. Protagonisti indiscussi, oltre 350 esemplari, dalle razze più rare a quelle più conosciute. E non poteva mancare il gatto di casa, il gatto per eccellenza. Sphinx, Curilian Bobtail, Balinese, Orientale, Sacro di Birmania, Persiano, Esotico, Blu di Russia, Certosino, Maine Coon, Abissino e molti altri ancora. Un appuntamento imperdibile per i 5.500 visitatori di questi due giorni? Tranquillità e charme si respirano in questi padiglioni del polo fieristico. Gli stand sono pieni di colori tra i tantissimi giochi, tiragraffi e meravigliosi souvenir. Attore assoluto, il gatto. Un essere molteplice, difficile da decifrare, ma così facile da amare. Magnetico, surreale, irriverente, che diverte e si diverte. Con il loro savoir vivre ci regalano tranquillità e quella magia che si prova quando ne abbiamo uno tra le braccia. E infine il Best in Show. Ultime rifiniture prima dell'inizio dei giudizi e poi, preparati come le star, pronti a conquistare e sedurre come solo loro sanno fare, spileranno davanti a una giuria tecnica, composta da noti e stimati esperti giudici provenienti da Italia, Olanda, Slovenia e Lettonia. Le telecamere sono accese e il pubblico li sta già aspettando. Sono gli steward che duelleranno sul podio più importante presentando i migliori esemplari della giornata. Naturalmente, a proprietari allevatori, onori e premi. E come in ogni esposizione sponsorizzata dal prestigioso marchio Royal Canine, la sensazione è sempre quella di essere in prima classe. Con questi meravigliosi occhi e con il cuore pieno di gatti, vi diamo appuntamento alla prossima esposizione. Non mancate!